francesco sta cucinando assieme alla fidanzata hanno un ospite chi sarà mai è la mamma alba e si divertirà tantissimo questa sera abbiamo la cucina in fermento perché c'è un ospite chi è l'ospite chi è l'ospite ospite francesco ci scherza su ma alba sicuramente non si può definire un ospite sta aspettando per mangiare la matriciana come sarà stata